metterli in ordine tutti. Ah, guardate questo. E' carino, eh? Quelli che si sono lamentati del crocifisso. Dai, è più simpatico il crocifisso. Fedez è tornato da Miami e ha ripreso in mano la sua vita, dopo la separazione da Chiara Ferragni. I suoi orari sono completamente sballati. Di sera, si reca nella sua sala di registrazione per provare la nuova canzone. Questo ritorno alla sua routine musicale evidenzia un cambiamento nella vita di Fedez. Ormai vive la sua vita, senza le restrizioni che Chiara Ferragni gli imponeva. Questo nuovo capitolo, sembra portare una maggiore libertà e creatività nella vita dell'artista. Resta da vedere quali nuove sfide e opportunità si presenteranno, per Fedez, mentre continua a esplorare questo nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita personale.